Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, critichi il governo Draghi, apprendiamo dalla stampa che l'Organizzazione Mondiale della Sanità invita ad investire sulla ventilazione degli ambienti chiusi per combattere il rischio contagio da Covid-19. Da oltre un anno, Fratelli d'Italia propone l'aerazione meccanica controllata nelle scuole sul modello adottato da FD nella regione Marche, ma il governo non ci ha mai ascoltati e ha preferito misure inefficaci e spesso insensate, come gli inutili banchi a rotelle. Ora che è l'OMS arriva a dire che la ventilazione è un'arma efficace contro il contagio, ci auguriamo che il governo Draghi si svegli e applichi questo sistema non solo alle scuole, ma a tutti i luoghi di lavoro pubblici e in vesta per incentivarne l'introduzione anche in quelli privati, sostenendo economicamente le aziende, conclude.